La prima qua avevo scritto W H e la W H e la seconda nell'esercizio che vi ho dato l'altro giorno avevo fatto un chiaro errore ho detto trovatemi una retta che sia ortogonata a un piano o parallela a un altro piano e passata per un punto non va bene parallela a due piani e passata per un punto va bene ortogonale a un solo piano e passata per un punto va bene ma là chiaramente mi sono sorbagliato ok, allora in base alle domande che mi avete fatto anche durante la pausa volevo chiarire geometricamente perché la formula della proiezione di un vettore su un altro è data questo vettore qui la proiezione lungo il vettore W di W è uguale a W scalar W doppio fratto W scalar W doppio W ok? allora immaginate che due W siano lunghi 1 quindi norma W uguale norma W doppio che è lunga 1 ok? ma queste W e queste W doppio sono lunghe uguale allora quando fate la proiezione quando è lunga la proiezione? la proiezione è lunga coseno di t ma dov'è diretti? lungo W doppio quindi se questi qua sono lunghi 1 che succede? che effettivamente questa non è altro che buscalar W doppio ok? perché buscalar W doppio se vi ricordate era proprio il coseno di t perché questi sono lunghi 1 e se vi ricordate c'è anche il denominatore ma il denominatore in quel caso non c'è quindi funziona se invece W non è lungo 1 ma è lungo di più questa formula funziona uguale quindi fino a che la norma di W è uguale a 1 questa formula funziona bene ok? perché? perché ovviamente la lunghezza della proiezione è proporzionale alla lunghezza di W quindi se la doppia è la lunghezza di W siccome anche questo è proporzionale linealmente alla lunghezza di W sta poco il problema nel denominatore nasce dalla lunghezza di W doppio se W non è più lungo 1 immaginate che W doppio io lo moltiplichi per lambda che succede qua? qua mi esce un lambda qua mi esce un lambda quindi alla fine mi esce fuori un lambda quadro ma chi è lambda quadro? esattamente W scala V scusate qua in realtà questo è coseno di T per lambda V per W se andate a sostituire qua mi viene W scala V per W per W al quadrato al quadrato ok? quindi questa qua è la formula della prezione adesso voglio tornare a questo esercizio qua voglio sfruttare vi ricordate che questa era una base ottonata di R3? allora prendiamo un altro lettore prendiamo V uguale 7 4 1 voglio scrivere V come combinazione lineale di V1, V2 e V3 allora vi ricordo che V1 scala V1 faceva 2 e V2 scala V2 faceva 6 e V3 scala V3 faceva 3 ok facciamo 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 7 4 meno 1 così sul tagliano più bene allora cosa faccio? andiamo a fare plus scala 1 plus scala 1 fa 7 più 0 meno 1 fa 6 andiamo a fare plus scala 3 questo viene 7 meno 4 fa 3 no non mi piace mettiamoci in mece di mettiamoci 7 5 meno 1 così il primo non gara la facciamo 7 meno 5 fa 2 più 1 fa 3 ok allora andiamo a fare V scala V1 fratto V1 scala V1 V1 più V scala V3 fratto V3 scala V3 Dice mai il V2 lo sei dimenticato? no l'ho fatto apposto V1 cambia eh no no perché scondrava con lo 0 allora quanto fa questo? questo faceva 6 diviso 2 cioè 3 1 0 1 poi qua c'avevo 3 fratto 3 che fa più 1 più 1 meno 1 meno 1 cioè viene 4 2 eh 4 meno 1 2 4 0 meno 1 fa meno 1 3 meno 1 fa 2 ok? allora io dico dico guardate prendiamo il vettore di partenza questo e andiamo a fare 7 5 meno 6 meno 4 meno 1 2 7 5 meno 1 scusate meno questo quindi quanto fa? fa 3 6 meno 3 che è uguale a 3 volte 1 2 meno 1 qua stiamo vedendo la formula al lavoro non quella della prima proposizione ma quella della seconda cioè dice io invece di usare v1 v2 e v3 e fare la formula direttamente io mi dovrei fare più scalare v2 magari più scalare v2 non lo voglio fare voglio risparmiare te allora cosa faccio? mi faccio la proiezione lungo v1 e v3 quindi faccio la proiezione sullo spazio generato da v1 e v3 la proiezione sullo spazio generato da v1 e v3 è questa poi faccio la differenza la differenza deve essere ortogonata ma se è ortogonale a v1 e v3 chi è? deve essere diretta lungo v2 perché poi vedremo l'ortogonale ha uno spazio dimensione 2 e uno spazio dimensione 1 spazio dimensione 1 ci sta solo questo che è già ortogonale quindi deve essere rivoluzionato ok? quindi cosa ho fatto? quando vado a fare la differenza noto che questo è un multiplo di questo e quindi posso scrivere che il mio 7 5 meno 1 è uguale a 3v1 più 3v2 più un 3 perché 3v2 più v3 l'avevo fatto con la formula questo l'ho fatto per differenza e quindi mi posso risparmiare quando vado a fare il prodotto di scala mi posso risparmiare di fare un scala di un problema perché quando vado a fare la differenza poi si vede anche che questo è 3 volte chiaro? questo così per fare proprio lo spalagnino ma in realtà l'abbiamo fatto per verificare che tutte e due le proposizioni dicevano cose giuste adesso andiamo a fare a dimostrare la seguente proposizione grazie facciamo prima una definizione ok allora sia v uno spazio vettoriale su R e siano 1 e sia 1 4 contenuti in V tale che V scala 2J sia uguale a 0 se solo 6 I è diverso da C quindi siano dei vettori a 2 a 2 8 u 8 u si chiama si dice sia W più grande lo spazio generato da span di V1 V2 4 si dice proiezione di un vettore V appartenente a V su W il vettore il vettore l'unico vettore che viene dato alla formula proiezione proiezione lungo VW di V uguale somma per I che va da 1 fino ad H V scalare V fratto V scalare V quali sono le proprietà della proiezione proprietà della proiezione se io la faccio due volte rimane come fare una volta solo seconda proprietà V meno la sua proiezione lungo spazio interiore V è ortogonale a tutti gli elementi V terza proprietà la lunghezza la norma di V meno la proiezione di V sul doppio è più piccola della norma di V meno U per ogni U appartenente a U cioè tra tutti i vettori che stanno in V doppio la proiezione è quella che sta più vicino a V cioè la differenza è quella più corta vi ricordate che ci metto sotto allora queste tre proprietà la prima la fase dell'esercizio è un esercizio banale basta prendere V doppio e riproiettarlo prendere la forma della proiezione e riproiettare la forma troppo quindi la proprietà numero uno la fate per esercizio è un esercizio che potete fare non è banale non è difficile è banale la due l'abbiamo già dimostrata e la tre la vogliamo dimostrare quindi la dimostrazione la uno è un esercizio dalla uno segue che la proiezione coincide con il vettore stesso se solo sei il vettore stesso già stava in W se stai in W fai la proiezione rimane uguale se non stai in W fai la proiezione e cambia da due già fatto è la proposizione di prima la tre allora chi è W meno U norma quadra questo per definizione se non l'abbiamo già dato questa definizione la diamo adesso quando c'è un prodotto scalare la norma non è al quadrato non è altro che il prodotto scalare il vettore con se stessi ma questo che cosa vuol dire questo qua lo posso scrivere come a W meno la proiezione lungo W più la proiezione lungo W di W meno 1 norma quadra questo questo chi è? cioè invece di fare la norma direttamente questo aggiungo il sottratto questo siccome lo aggiungo il sottratto prima di fare la norma quadra si può fare lo vettore lo stesso questo esempio ok ma questo se l'andate a sviluppare quando devo fare una norma quadra fare questo vettore scalarsi stessa allora cosa mi viene? viene questo verso scalarsi stessa quindi viene v meno la proiezione lungo W di W norma quadra poi mi viene questo pezzo scalarsi stessa più norma di v W meno U a quadra poi mi vengono due volte questo scalarsi quindi viene due volte v meno la proiezione lungo W di W scala la proiezione lungo W di W meno U tuttavia questo vettore qua se ci fate caso questo vettore sta in W perché U ci sta per ipotesi quest'altro ci sta in W per costruzione perché la proiezione è in W quindi sta in W quindi la differenza di questi due sta in W ma questo chi è? è V meno la proiezione? quindi V meno la proiezione scalare il vettore di W quanto può fare? quindi tutta questa roba qui quanto fa? 0 c'è scritto nella proprietà 2 no? questo è ortogonale a tutti i vettori di W questo è un vettore di W sì e allora quando la faccio scola viene iniziale quindi questo pezzo non c'è e allora che succede? che tutto quanto è maggiore o uguale vedete una somma di quadrati se ce ne tolgo 1 è maggiore o uguale della norma di W meno la proiezione ottenete perché W è uguale a questo più questo se qua ci tolgo un quadrato diminuisce una norma quadratica numero così numero non negativo quando è che sono uguali solo quando questo è 0 cioè solo quando un v coincide con quindi possiamo anche dire possiamo anche dire che la norma di W la norma di W quindi se volete proprietà numero 4 la norma di W al quadrato non è anche più uguale alla norma di W meno la proiezione al quadrato più la norma della proiezione al quadrato questo perché? la norma di W al quadrato è uguale alla norma a questa alla norma quadratica di questo meno questo più questo rifatto il discorso di prima che viene la norma quadratica del primo più la norma quadratica del secondo più il prodotto scalare due volte il prodotto scalare in croce ma il prodotto scalare in croce fa 0 perché questo vettore sta in W e questo è il boom della proiezione quindi quando io proietto lo mando in alto quando io proietto che cosa sto facendo? cos'è la proiezione? la proiezione sto ricostruendo V però non riesco a ricostruire sempre V cioè se V1 V2 VH generiamo tutto V ricostruisco tutto V se no ci vado sotto e quello che avanza è ortogonale che significa che io ho ricostruito questo pezzo qua e per arrivare alla norma quadratica di V mi manca questo pezzo qua è chiaro? che quanto di meno diciamo quanto di meglio posso fare quindi io sto prendendo la proiezione non è altro nel senso della norma della distanza data dalla norma della differenza da questa disuguaglianza qui da questa disuguaglianza qui vedete che questa in V è la migliore approssimazione possibile di V perché la distanza cioè la norma della differenza è più piccola di tutte le altre possibili approssimazioni che io posso trovare in V non solo ma quando vado a fare la norma di V al quadrato che è la lunghezza di V al quadrato io un pezzo l'ho trovato e l'altro pezzo mi manca perché? perché è 8 V 8 quadrati che succede? se io adesso aggiungo un altro vettore invece di V ci metto VH più la proiezione mi riprenderà un altro pezzo facciamolo con un esercizio facciamolo con un esercizio allora questa proprietà l'abbiamo dimostrata adesso riprendiamo il vettore di V allora questi vettori erano 1, 0, 1 1, 2, meno 1 e poi c'era 1, meno 1, 1 che era 2, 2, 2 questi erano 1 V2 e V3 ok? adesso prendiamo un altro vettore andiamo a vedere 5 3 1 ok? 5 3 V3 era 1, meno 1, meno 1 eh meno 1, meno 1 c'era 5 3, meno 1 si è sbagliato a scrivere qua viene 1, meno 1 fa 0 qua viene 1, meno 1 fa 0 poi viene 1, più 1, meno 2 fa 0 adesso questo è V quanto fa la lunghezza di V? la lunghezza di V fa la radice di 35 per non mettere la radice mettiamo la lunghezza di V a quadrato qua 25 più 9 più 1 fa 35 adesso andiamo a fare la proiezione di V lungo V1 quanto devo fare? devo fare V scalare V1 fratto V1 scalare V1 V1 allora quanto viene qua? 5 meno 1 fa 4 fratto 2 fa 2V poi lungo V2 fa 5 più 6 fa 11 più 1 fa 12 fratto 6 fa V scalare V2 fratto V2 scalare V2 fa 2V e poi V scalare V3 fratto V3 abbiamo 5 meno 3 fa 2 più 1 fa 3 3 diviso 3 fa 1 quindi viene V3 adesso andiamo a fare il controllo 2 volte 1 0 1 più 2 volte 1 2 meno 1 meno 1 meno 1 questo fa 2 2 4 1 5 vediamo un po' 1 2 per 2 4 meno 1 fa 3 e poi qua viene 2 meno 2 meno 1 fa meno e funziona adesso adesso andiamo a fare la lunghezza di questo quanto fa? la lunghezza di V1 fa 2 ma la lunghezza di 2V1 quanto fa? al quadrato al quadrato 8 no 4 perché quando qua c'è il quadrato il 2 c'è 2V1 scala 2V1 quindi si moltifica per 4 oppure moltiplicate qua 2 0 2 poi fate la somma dei quadrati viene 4 più 0 più 4 8 poi la lunghezza di 2V2 quanto fa? allora la norma di V2 al quadrato faceva 6 6 per 4 fa 24 e la lunghezza di V3 al quadrato sempre quanto fa? fa 3 è 1 più 1 più 1 fa 3 quanto fa la somma? 35 come prima perché? perché questo è la somma di questi tre pezzi questi tre pezzi sono tre pezzi ortogò allora quello che stiamo applicando qui chi è? è il teorema di Pitagora la lunghezza di questo questo quando ve lo scomponete lungo tre cose ortogonali allora prima dovete fare la somma di questi due e qua applicate Pitagora poi dovete fare un'altra volta questo e questo e questo è il cateno quindi applicando due volte il teorema di Pitagora scoprite che la lunghezza al quadrato di questi è uguale a lunghezza al quadrato di questi più questi che significa se io proietto solo lungo v1 ci avrò un pezzo di lunghezza al quadrato che fa 8 io sto ricostruendo la lunghezza al quadrato con vari pezzi ortogonali i pezzi ortogonali e la lunghezza al quadrato si sommano quindi quando vado ad aggiungere i pezzi ortogonali le lunghezze al quadrato di quello che ottengo possono solo aumentare allora io avevo questo che era lungo 35 allora se ci metto solo questo pezzo mi viene 8 se ci metto anche questo pezzo mi verrà la somma di lunghezza al quadrato mi verrà 32 la lunghezza al quadrato di questo vettore al quadrato mi viene 32 se ci metto pure questo mi viene a 35 ho finito ho ricostruito il vettore di qua ora nel senso di queste norme al quadrato se io voglio usare solo un vettore quindi voglio proiettare su uno spazio generato solo da uno di questi tre vettori qua è il vettore che mi contiene di più come informazione del vettore di partenza il vettore v2 perché se il vettore v2 se ci metto solo v2 io nel vettore di partenza ho ricostruito come norme al quadrato 24 su 35 non manca solo 11 invece se il proietto lungo v3 ho ricostruito solo 3 su 35 perché perché è un vettore quasi ortogonale se fosse proprio ortogonale se il proietto è un vettore ortogonale del vettore di partenza ho ricostruito 0 il vettore è nulla ho recuperato 0 invece se il proietto lungo v2 ho parecchio cioè quello che ci manca non è tanto poi chiaramente se voglio ricostruire esattamente i vettori di partenza ci devo aggiungere anche la componente 1v1 anche la componente 1v2 ma se potessi andare in ordine se devo usare solo 1 uso questo se ne devo usare solo 2 uso questi 2 se posso usarne 3 uso tutte 3 è chiaro questo come concetto più ricostruisco della norma quadrata del vettore di partenza più mi avvicino al vettore desiderato quale sarà la lunghezza che mi manca? sarà la radice quadrata della differenza della norma quadrata cioè se proietto solo lungo v2 mi manca radice di 11 come lunghezza se proietto lungo v1 e v2 mi manca radice di 3 se proietto lungo v1, v2, v3 mi manca l'inter è chiaro? fino a qui quindi il concetto di proiezione è che io proietto, proietto, proietto fino a che non ricostruisco il vettore di partenza se ho una base ok? adesso andiamo a fare un esercizio un'applicazione di tutto quello che abbiamo visto mi citerà impegnati Manetta? grazie a tutti allora prendiamo stavolta le funzioni continue tra meno pi greco e pi greco allora qual è una funzione non nulla che sta qua la funzione 1 cominciamo sempre con le funzioni più semplici il vettore nulla è la funzione nulla allora questo qua è il nostro spazio v come è fatto il prodotto scalare su v f scalare g si fa sempre allo stesso modo questo è il nostro prodotto scalare canonico per le funzioni si fa l'integrale e il prodotto semplicemente siccome qua siamo tra meno pi greco e pi greco l'integrale lo facciamo allora per avere un'altra funzione sarebbe una cosa buona metterci una funzione ortoconale rispetto a questo perché se ce l'abbiamo ortoconale siamo sicuri che è indipendente allora noi potremmo prendere la funzione x perché sappiamo essendo dispari per uno viene una funzione dispari indianne che viene in zero però uno potrebbe dire ma vediamo un po' proviamo a vedere con la funzione coseno di x allora cosa devo fare? devo fare l'integrale tra meno pi greco e pi greco della funzione coseno di x in due è vero che è pari però è vero che è a media nulla questo è l'integrale fa seno di x tra pi greco e meno pi greco e faccio coseno di x è coseno di x per uno perché sono ortoconali? guardate allora prendiamo meno pi greco pi greco questa è la funzione uno questa è la funzione coseno ok? allora la funzione coseno è pi ortoconale perché questo pezzo di area qua questo pezzo di area qua sono uguali si sottraggono perché sono disegni opposti quindi fa zero la stessa cosa quest'altra parte il che mi è convenuto prendere questa intanto sono due funzioni indipendenti allora però diciamo il problema è che continuiamo a trovare altre indipendenti se vi ricordate se io ne trovo una terza che sia ortoconale rispetto a tutte e due se ne trovo una terza che sia ortoconale rispetto a tutte e due sicuramente è indipendente allora la terza io dico che è il coseno di 2x per qua andiamo a vedere cominciamo a vedere l'integrale devo fare il prodotto scalare di questa con questa e questa con questa devo fare l'integrale da meno pi greco e pi greco dico seno di 2x in dx questo è un altro che seno di 2x mezzi valutato meno pi greco che fa 0 quindi anche questo è ortoconale coseno di 2x non fa altro che fare così allora cioè invece ha frequenza doppia rispetto a coseno quando andate a fare l'integrale moltiplicate per 1 l'integrale della funzione coseno di 2x fa 0 però quello che non è banale è che l'integrale tra meno pi greco e pi greco di coseno di 2x per coseno x faccia pure 0 allora chi è coseno di 2x? se vi ricordate posso scriverlo così che mi conviene l'integrale integrale meno pi greco e pi greco di 1 meno 2 sen quadro di x e il coseno perché è la cos quadro meno sen quadro aggiungendo il sottragetto sen quadro fa 1 meno 2 sen quadro la coseno di x allora questo mi viene l'integrale del coseno di x tra meno pi greco e pi greco e già sappiamo che fa 0 meno 2 volte l'integrale da meno pi greco e pi greco di sen quadro di x coseno di x ma questo qua chi è? è fa 0 perché questo qua è la derivata di sen cubo a meno di una costrata la derivata di sen cubo quanto fa? 3 sen quadro per la derivata di sen di 4 ma il sen cubo valuta del meno pi greco pi greco fa 0 perché insieme faceva 0 e quindi tutto fa se lo sviluppate quindi abbiamo scoperto che queste tre funzioni sono ortogonali o p3 se sono ortogonali sono indipendenti a e se continuo così se continuo così diciamo fino a quando voglio continuare cominciamo a mettercene h e mi fermo ad h adesso devo fare i possibili prodotti scalari o faccio uno scalar coseno di jx chiamiamolo kx sennò poi j cominciate a pensare che è l'unità immaginale non c'è il peccanismo j l'unità immaginale chiamate solo voi ingegneri fate magno ok allora uno scalar coseno di kx come si fa? è l'integrato da meno pi greco e pi greco di coseno di kx in dx che fa seno di kx fratto k valutato da meno pi greco e pi greco e fa 0 seno di kp greco sempre 0 k è maggiore o uguale di 1 perché 1 è coseno di 0x 1 ho scritto a parte ok adesso per curiosità andiamo a fare pure 1 scalare 1 quando fa 1 scalare 1 fa l'integrato da meno pi greco e pi greco di 1 quindi x fa 2 pi greco quindi il vettore 1 ha lunghezza a un quadrato 2 pi greco nel nostro prodotto scalare va bene fino a qua? ok adesso andiamo a fare il prodotto scalare di due funzioni coseno allora cioè andiamo a fare coseno di facciamo mx scala coseno di nx dove m e n sono compresi tra l'u e h ok? allora che devo fare? se vi ricordate devo fare l'integrale tra meno pi greco e pi greco coseno di mx per coseno di mx di mx ma io però vi posso ricordare la formula di la formula di Werner cioè coseno di mx per coseno di nx è uguale a un mezzo seno di mx più nx meno seno di m meno n per x perché? se vi ricordate insegnate come si faceva con il posto avese seno di questo meno questo è uguale a 2 che sarebbe un mezzo portato dall'altra parte poi devo fare il coseno della semisomma ma la semisomma viene 2m fratto 1 viene mx per scusate qua ho perché poi veniva il seno quindi questo è coseno meno coseno coseno no perché là sarebbe venuto per il seno della semidifferenza quindi non veniva quella con il seno l'unica che viene coseno coseno è la differenza dei coseno viene 2 volte coseno della semidifferenza allora se quella viene coseno seno por seno 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 coseno e per differenza questa qua viene questa è la formula di Werner questa la sappiamo dalla cronomi ok quindi questo integrare qua quanto fa? fa un mezzo quando vado a integrare questo chi mi viene? mi viene seno di m più n x fratto m più n valutato da meno pi greco e pi greco più più lo schermo qua sopra un mezzo seno di m scusate coseno coseno ah no senti la desintegrale di coseno è seno coseno di m meno n x fratto m meno n valutato da meno pi greco e pi greco ma quando viene? supponiamo che m sia diverso da n perché se no se no quest'integrale il secondo integrale non è giusto per quale motivo? perché se m meno n fa 0 la non viene viene coseno di 0 ma coseno di 0 fa 1 e l'integrale di 1 non fa seno di 0 qualcosa diviso 0 ma l'integrale di 1 fa 1 per la misura dell'intervallo quindi questo qua se m è diverso da n quanto viene? adesso guardate a sostituire pi greco seno di un multiplo di pi greco seno di un multiplo di meno pi greco eccetera eccetera dire tutto 0 quindi queste due funzioni sono a2 a2 ottogonali se invece m è uguale a n se m è uguale a n lo scrivo da un'altra parte se io vado a fare coseno di mx scalare coseno di mx questo fa l'integrale tra meno pi greco e pi greco di cosen quadro di mx e già da questo possiamo capire che non viene 0 perché l'integrale di un quadrato a meno che la funzione non sia nulla non può venire 0 ma questo chi è? è sempre per la formula di Werner è un mezzo per l'integrale per la meno pi greco e pi greco di coseno di m di 2mx più scusate qua non era meno ma era più l'integrale dopo l'ho fatto bene perché ho fatto l'integrale col più perché quella col meno coseno meno coseno per il prostapere si dà meno 2 seno seno invece coseno più coseno fa 2 coseno coseno ok quindi più 1 in dx perché più 1 perché coseno di 0 per x fa 1 allora quando andiamo a integrare questo questo viene 0 perché m è positivo e quindi qua quanto vi viene l'integrale di 1 da meno pi greco e pi greco qua 2 pi greco diviso meno 2 fa pi greco allora ricapitoliamo iscriviamo tutto qua grazie ok allora qua cosa ho stabilito che queste funzioni qua tutte queste funzioni qua sono a 2 porto con a vedete quando faccio il prodotto scalare di 1 con una funzione di coseno mi viene 0 quando vado a fare il prodotto scalare di coseno di mx con coseno di nx mn sono diversi viene 0 quando vado a fare il prodotto scalare di 1 scala a 1 viene 2 pi greco è l'unica che è più lunga il prodotto scalare di ogni altra funzione scala a se stessa fa pi greco ok adesso fermiamoci un attimo e riflettiamo cosa abbiamo dimostrato fino a ora abbiamo trovato delle funzioni ortogonali se sono ortogonali sono indipendenti quante sono quante ne posso trovare di funzioni indipendenti là dentro quante mi pare perché n questa cosa è vera per qualunque n quindi se mi fermo è vera per qualunque h se mi fermo a 10 ne ho trovate 11 se mi fermo a 20 ne ho trovate 21 se mi fermo a 100 ne ho trovate 101 se mi fermo a 1 miliardo ne ho trovate 1 miliardo è chiaro fino a qui quindi quello spazio lì con quel prodotto diciamo con quello spazio lì come spazio vettoriale può essere uno spazio di dimensione finita? no perché se è la dimensione finita io non potevo trovare se fosse dimensione 1 miliardo non potrei trovare 1 miliardo e 1 funzioni indipendenti non 1 quindi quello spazio lì non è di dimensione finita allora come facciamo a capire quindi se io voglio ricostruire una funzione f se io voglio ricostruire una funzione f continuo tra meno p che e p crema secondo voi che devo fare? su quale funzione la devo proiettare? di queste qua la risposta è su tutte e magari non bastano pure cioè fino a che la proietti sul numero finito può essere che ci avanza qualcosa cosa anche se la proietti su tutte queste funzioni può essere che ci avanza lo stesso qualcosa perché per esempio allora però quando noi proiettiamo dico solo questo e poi facciamo pausa quando noi proiettiamo quel qualcosa che avanza che cos'è? è un pezzo che è ortogonale quindi per capire se è possibile che proiettando avanzi qualche cosa devo trovare cioè se avanza qualcosa trovo un pezzo ortogonale allora se io riesco a trovare una funzione che è ortogonale a tutte queste vuol dire che queste funzioni mancano o bassano allora qual è una funzione di ortogonale? tutte queste è funzione seno aggiungiamo la funzione seno allora se vado a fare l'integrale di 1 per seno allora 1 per seno di x viene l'integrale da meno pi greco di pi greco di seno di x di x che fa 0 perché questa è una funzione di disparito se andiamo a fare l'integrale la meno pi greco e pi greco di seno di x per coseno di mx questo è uguale in dx sempre per Vermeer questo è uguale a un mezzo per l'integrale la meno pi greco e pi greco del seno di m più 1 per x meno il seno di m meno 1 per x in dx perché? adesso applicate il prostapertesi seno meno seno è 2 coseno della semisomma che fa coseno di mx per il seno della semidifferenza che fa seno di x e si dà ora questa cosa fa 0 sempre anche se m è uguale a 1 perché se m è diverso da 1 è maggiore di 1 poi viene seno di un multiplo di x seno di un multiplo di x intero come prima l'integrale di seno è così è una funzione di disparito quindi in ogni caso l'integrale fa 0 ma se anche m fosse 1 non è come prima che c'era coseno e coseno di 0 veniva 1 stavolta seno di 0 viene 0 quindi questo qui questi due integrali essendo integrali di due funzioni dispari tra meno pi e pi e pi fanno anche 2 0 ok? quindi abbiamo scoperto che se aggiungo questa funzione qua cancello la voglio aggiungere qua anche questa è ortoconata a tutte quelle di lì ora secondo voi una volta che ho raggiunto questa quali potranno essere altre funzioni ortoconali? se è 2x però questo non ce lo scriviamo ancora perché lo vediamo dopo ok? ok grazie